Buonasera, buonasera Roberta, tanti complimenti, una gustosissima serata ci avete fatto trascorrere stasera, avete ricevuto un sacco di premi e adesso capiamo il perché. Tu hai presentato i tuoi bravissimi attori, diciamo parliamo un po' di questo, come è nata questa idea, questa tua trasformazione di cioccolà? Soprattutto per il tema che trattava, è nato un po' di anni fa, in realtà questo è il settimo anno di repliche consecutive, non ci fermiamo mai, è uno spettacolo che veramente è richiesto un po' dappertutto, ha vinto 35 premi nazionali, ha rappresentato l'Italia all'estero per ben sei volte, Francia, Germania, Marocco, Belgio, non mi ricordo anche dove, comunque un po' in giro per tutta Europa e niente, come avete anche visto voi, i temi che tocca sono temi estremamente attuali, quindi diciamo che ci ha interessato qualche anno fa e continua ad interessarci, lo spettacolo viene sempre comunque rilavorato, rimodellato, rimodificato anche un po' a seconda delle situazioni sociali come evolvono, no? Anche per continuare a lanciare questi messaggi che per noi sono importantissimi. E poi la metafora del vento, questo vento che cambia? Ebbè, noi ci auguriamo un po' tutti, penso, nella nostra vita che a un certo punto arrivi sta raffica di vento che cambia un po', delle situazioni che certe volte incancremiscono, sono stagnanti, semplicemente perché credo, questa è un'opinione molto personale, che l'abitudine sia il dramma nella nostra vita, quando ci abituiamo alle cose diventano normali anche situazioni che normali non sono affatto, quindi ben venga un bel ventaccio che spazza via un po' tutto quanto, così possiamo ricominciare da capo e avere un altro spirito, un'altra luce, altri polmoni, respirare, riprendere a respirare. Loro sono la compagnia Costellazione, arrivano da Formia in provincia di Latina, quante repliche avete fatto di questo spettacolo? Una marea. Devo dire che la nostra compagnia parte questo spettacolo, sta circuitando in Italia e all'estero con altri tre spettacoli, quindi sono quattro lavori che stanno imperversando un po' dovunque e io ve la dico questa cosa qua, perché noi la dobbiamo condividere, quando c'è quelle gioie che stanno qua, sale, è salita. Allora, nel 2017 la nostra compagnia ha portato l'Italia in finale al festival mondiale di teatro che si tiene ogni quattro anni, come campionato di calcio, ogni quattro anni a Monte Carlo, nel Principato di Monaco, siamo andati in scena nella Sal Garnier del Casinò di Monte Carlo, che è una cosa fantastica, e su 84 paesi del mondo, le selezioni partono ovviamente anni prima, noi siamo rientrati tra i 24 finalisti, quindi l'Italia era là. Non vi dico su questo palco? Signori, quando si ha la bandiera tricolore sopra in terra straniera, si sente l'italianità tutta. Ma poi la cosa che veramente ci ha tanto gratificato è che tra i 24 finalisti gli spettacoli più apprezzati sono stati tre, la Russia, il Brasile e l'Italia. Siamo andati con uno spettacolo che si chiama Il Gioco delle Rose, che è una nostra riscrittura di Romeo e Giulietta di Shakespeare, ma è ambientato in una scacchiera. Quindi immaginate cosa può diventare questa operazione, è stata veramente tanto apprezzata, per cui ci ha portato poi a questi risultati. La nostra compagnia è stata fondata nel 2005, nel 2005 abbiamo cominciato in quattro, adesso siamo oltre i 50, siamo tantissimi e grazie a questi ragazzi, fateglielo un'altra pausa, perché se lo meritano davvero, loro sono una rappresentanza, ma noi tutte le sere siamo in sala a lavorare, a sperimentare, finiamo di lavorare e poi andiamo a fare tutto quello che serve per tenerci in allenamento con questi spettacoli, però la soddisfazione qual è? Che in quattordici anni, Marco vieni qua, allora in quattordici anni, adesso sta iniziando il quattordicesimo anno di attività, perché in Costellazione l'abbiamo fondata a gennaio del 2005, quindi stiamo facendo il compleanno proprio in questo periodo qui, abbiamo ricevuto 111 premi nazionali e pensate, abbiamo rappresentato l'Italia all'estero 18 volte, dalla Corea del Sud, Canada, Finlandia, tutta l'Europa, il Marocco, l'Africa, siamo stati davvero portatori della cultura italiana un po' dappertutto e devo dire sempre con un riscontro estremamente positivo e vi ripeto, quando l'Italia va all'estero si vede, diciamola.